Ben ritrovati con Buonasera Italia, quest'oggi nei nostri studi l'Onorevole Antonio Di Pietro, Presidente dell'Italia dei Valori. Onorevole grazie mille per aver accettato l'invito a Buonasera Italia. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori, eccoci qua. Onorevole, tanti temi che vorrei affrontare con lei quest'oggi e vorrei iniziare da un tema che riguarda direttamente le famiglie di italiani, ovvero vorrei commentare i dati del tasso di povertà, rischio di povertà dell'Italia sopra la media dell'Unione Europea, tante le famiglie che difficilmente, come sono solita dire, riescono ad arrivare non più al 30 ma al 15 del mese. La ragione principale è perché manca il lavoro innanzitutto, la seconda ragione è perché il costo della vita è esagerato e la terza ragione è perché le istituzioni, a mio avviso, hanno ancora di più incrementato le disuguaglianze sociali. I governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, da ultimo il governo Monti, sostenuto peraltro, mi lo lascio dire, sia da destra che da sinistra, con 50 votazioni di fiducia, come i fatti stanno dimostrando, ha impoverito ancora di più le famiglie italiane e ha creato ancora maggiore disagio sociale perché ha colpito proprio le fasce più deboli e più oneste. E' la ragione per cui io e noi, come Italia dei Valori, abbiamo deciso di stare all'opposizione quest'anno e le 50 votazioni di fiducia non le abbiamo votate. E' toccato il tema, l'altro tema aggravolto è quello del tasso di disoccupazione. Disoccupazione giovanile alle stelle, oltre il 37,1%, fuga dei cervelli dei giovani italiani all'estero e dall'altra parte gli over 45 e 50 anni. Tanti cassa integrati o disoccupati che difficilmente riescono a reinserirsi nel mondo lavorativo. Noi, io conosco bene il problema perché anche io ho due figli disoccupati, giovani anch'essi, laureata, una laureata e uno laureando. La questione è sempre questa, noi abbiamo depositato, credo anche voi avete dato atto, ve ne ringrazio, abbiamo depositato anche due referendum in Cassazione nelle scorse giorni, proprio sull'articolo 8 e sull'articolo 18. Inoltre ci siamo sempre battuti affinché i pochi soldi a disposizione ci fossero per rilanciare soprattutto la piccola e media impresa, soprattutto per favorire le imprese che potessero dare occupazione. Io non credo che possa dare occupazione l'acquista di due sommergibili come è stato fatto ultimamente con qualche miliardo di euro o l'acquista di cento e passa aeree da combattimento. Ne credo che possa creare occupazione, aumentare le imposte perché appunto quando la tassazione diventa eccessiva succede appunto che le imprese emigrano all'estero. Io credo che bisognava favorire quelle imprese che investono in Italia invece che dare investimento a pioggia. E parlando anche ovviamente del problema dell'accesso al credito che riguarda sia le imprese ma anche poi i singoli, i singoli cittadini. La questione noi l'abbiamo posto proprio in Parlamento come Italia dei Valori su questi temi. Tutti ricorderanno che l'anno scorso sono stati dati dalla BCE quasi 9 miliardi di euro, miliardi di euro di prestiti al sistema bancario italiano all'1%. Ecco, il sistema bancario italiano l'ha utilizzato per comprare e per compravendere i titoli di stati lucrando fino al 5 al 6%. Io credo che quel prestito che avevamo ricevuto dalla BCE doveva essere finalizzato al sistema delle imprese e al sistema delle famiglie proprio per venire incontro ad un sistema di tassazione più equa per rilanciare l'economia. Questa è stata una delle realtà che ha fatto guadagnare e speculare molto al sistema bancario ma d'altronde con Monti che è un rappresentante dei poteri forti non poteva che essere diversamente. Vorrei ricordare che nell'ultima finanziaria che solo l'Italia dei Valori ha votato contro sono stati dati alcuni miliardi di euro a una banca della Toscana e miliardi di euro che potevano essere dato davvero invece a rilanciare lo stato sociale e lo stato precario soprattutto in termini di indennità, di disoccupazione o di prima occupazione. L'altro onorevole Di Petro l'ha sottolineato appunto la drammaticità di alcuni casi collegati a grandi aziende italiane, casi ancora che rimangono aperti, lo ricordiamo come l'Irisbus, le acciaglie di Piombino oppure l'Irva di Taranto. Concretamente a questo punto servono dei gesti forti da parte anche della classe politica per rimanere vicini a questi cittadini, centinaia e centinaia di cittadini che sono rimasti senza lavoro. Direi migliaia di cittadini. La questione è ancora una volta dovuta al fatto, al nostro avviso, infatti noi come partito siamo stati sempre fuori da quelle fabbriche per difendere le fasce sociali più deboli, gli inoccupati, i disoccupati, i cassi integrati, perché riteniamo che bisogna necessariamente pensare di dare finanziamenti a quelle imprese che investono soprattutto in sicurezza, in salute e in tutela dell'ambiente, ma anche in rilancio dell'occupazione. Quel che è successo, come avete visto tutti, per esempio la Fiat ha per anni, per decenni, ha avuto aiuti di Stato e però gli aiuti di Stato è serviti soltanto per fare della Fiat una impresa che è andata ad allocare attività produttiva all'estero dall'Italia. Io credo che sotto questo aspetto non possiamo permettere, così come non possiamo permettere per esempio che l'ILVA a Taranto abbia prodotto un tale sistema di mancanza di tela, di salute dell'ambiente, per lucrare senza dover difendere l'ambiente, così come non possiamo permettere quel che è successo ad Alcoa, dove è stato dato quasi in esclusiva un servizio di produzione e nello stesso tempo, nel momento in cui hanno deciso di investire altrove, semplicemente hanno chiuso l'azienda lasciando per terra gli operai. Non posso non parlare quella del tema della fiducia o meglio sfiducia di tanti cittadini nei confronti, da una parte della politica, dall'altra parte nei confronti proprio del singolo politico. Come possiamo cercare di riportare i cittadini alle urne e ovviamente fargli credere della possibilità appunto di una buona politica per risultati migliori per quanto concerne il lavoro, la disoccupazione, piuttosto che i tanti temi che abbiamo trattato fino adesso, onorevole Di Pietro. Sono molto scettico anch'io, onestamente sono molto scettico anch'io, il cittadino oggi è deluso e arrabbiato. Lei pensi che nonostante che l'Italia e i Valori sia una forza politica in questi cinque anni, è l'unica forza politica che ha fatto opposizione a questo governo che ha indebolito, come lei stessa ha detto all'inizio della trasmissione, ha indebolito il sistema Italia rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa. Noi come Italia e i Valori con senso di responsabilità abbiamo deciso di farla a noi una rivoluzione civile prima che accada una rivoluzione violenta, perché come ha visto in alcuni casi la gente è davvero esasperata e a volte arriva fino a fare gesti sconsiderati di violenza o di autoviolenza, addirittura con gesti su se stessi. Per questa ragione abbiamo deciso di unire tutte le forze che in questi anni dentro e fuori il Parlamento, dentro eravamo solo noi, ma fuori il Parlamento si sono opposto a questa gestione clientelare da una parte, ma ancora di più di poteri forti, del sistema bancario, del sistema finanziario, del sistema delle lobby europee, abbiamo cercato di unirci tutti insieme e portare in Parlamento proprio quella società civile, proprio quei rappresentanti della società civile che più hanno fatto sentire la loro voce. Troveranno i nostri elettori alle prossime elezioni politiche del prossimo febbraio, troveranno una lista nuova che si chiama appunto rivoluzione civile che noi partiti appoggiamo e aiutiamo, ma in cui candidiamo soprattutto persone che non hanno fatto politica, ma che hanno diciamo così qualcosa da raccontare per il proprio vissuto personale e per la propria esperienza personale. Io credo che questo è un esempio proprio di cambiamento delle persone, delle facce per cambiare la politica e abbiamo messo a capo di questa coalizione una persona che ha dimostrato, come penso di aver dimostrato io negli anni 90, questo ha dimostrato di avere la schiena dritta Antonio Ingroia, che è un magistrato che sta pagando le conseguenze semplicemente perché sta cercando di portare alla luce chi nelle istituzioni ha fatto comunella con la mafia. Così quando io non ho dovuto pagare un mare di conseguenze perché da magistrato a Milano ho cercato di scoprire chi nelle istituzioni, soprattutto nell'economia, violentava le regole dell'economia, cioè della libera concorrenza attraverso il sistema di tangentopoli delle bustarelle. E onorevole Di Pietro, che spazio avranno quindi i giovani all'interno del suo partito? Come? Che spazio avranno i giovani all'interno del suo partito? Noi non solo abbiamo dato ai giovani la possibilità di essere candidati, ma di essere eletti proprio perché il sistema elettorale attuale, un sistema elettorale becero, su quello nazionale in realtà quando si va a votare, anche il prossimo 24-25 dicembre si va a votare, ma dipende dalla posizione in lista dove ti metti per essere eletto o meno, quindi in realtà chi andrà in Parlamento si sceglie già nel momento in cui si fanno le liste ed è questa la ragione per cui noi abbiamo deciso di mettere, innanzitutto pensi che noi politici non ci mette nessuno di noi, neanche io sarò capolista e nella testa di lista, proprio perché abbiamo deciso di mettere persone della società civile, soprattutto giovani e giovani donne con una storia, Ilaria Cucca è una persona di questi, il figlio di Piola Torre, ammazzata per fatti di mafia e un'altra di queste persone, la dottoressa Stramaccione, direttrice di Libera, un'altra giovane donna anch'essa, proprio perché vogliamo mandare un messaggio di ricambio generazionale e di ricambio generazionale sul fronte giovanile e femminile. Onorevole, lei ha parlato prima di una nuova politica per quanto riguarda, dice vogliamo una politica antimafia nuova, che cosa intende quindi? La storia dei rapporti fra mafia e istituzioni in questo paese è una storia terribile, di cui in questi giorni un po' di chiarezza si sta facendo col processo che è iniziato a Palermo, ma già molta chiarezza si era fatto col processo a Firenze. Mi permette una breve parentesi per spiegare a chi ci ascolta, perché si cerca di confondere le acque anche in questo caso. Stiamo parlando di un fatto gravissimo, cioè stiamo parlando di una trattativa fra uomini delle istituzioni, politici di primo livello e uomini della mafia. Quando si parla di trattativa vuol dire che ci sono almeno due persone, una che tratta, se non mica tratti con lo specchio, con se stesso. Bene, già c'è stata una sentenza passata in giudicato a Firenze che ha stabilito in modo inequivocabile che trattativa ci fu, tanto è vero che gli uomini che stavano dall'altra parte della trattativa, cioè i mafiosi, sono già stati condannati. Si tratta allora di vedere se chi erano gli uomini che stavano da questa parte della trattativa. Il processo di Palermo serve per individuare queste persone. Allora, rispetto a un fatto così grave, prendersela con i magistrati di Palermo che anche attraverso intercettazioni telefoniche hanno cercato di capire chi delle istituzioni, chi nelle istituzioni non ha fatto il proprio dovere, ma addirittura ha trattato con essi per salvare, diciamo così, per paura o per salvare la pelle o per altre ragioni, mi pare che sia una grossa ingiustizia. Quello che è successo, l'Italia dei Valori è stato isolato rispetto al mondo politico diciamo così, della classe dirigente romana, perché noi su questo aspetto non ci siamo adeguati ad ascoltare la voce ufficiosa, l'ultima, è quella che è uscita fuori dalla relazione Pisano, della commissione parlamentare antimafia, chiusa l'altro giorno, l'altra è stata una trattativa ma un'interferenza, un dialogo, un pur parler, chiamala come ti pare, resta il fatto che quando tu hai un mafioso davanti lo deve arrestare, invece nel caso di specie sapevano dove stava Provenzano, ma non lo hanno voluto arrestare perché avevano paura di trovare tra le carte di Provenzano prove di quegli uomini che nelle istituzioni non hanno agito. Sapevano che Borsellino non voleva assolutamente la trattativa e i risultati che l'hanno ammazzato e quando l'hanno ammazzato è sparito insieme a lui anche un'agenda dove c'erano appunti che rivelavano chi lo aveva avvicinato per la trattativa, questi sono fatti i grandi. Onorevole, tra l'altro lei sottolinea nei punti del manifesto Rivoluzione Civile anche il tema ovviamente dei partiti, partiti che devono uscire da tutti i consigli di amministrazione a partire dalla RAI, dagli enti pubblici. Ci tengo a dirlo, l'unico partito pur presente in Parlamento che pur nella lottizzazione e spartizione delle cariche e degli incarichi aveva titolo, titolo squallido, di avere un proprio rappresentante nella RAI noi ci abbiamo rinunciato proprio perché riteniamo che non si può giocare sporco, cioè vale a dire l'informazione, voi sia pubbliche che private, per definizione siete arbitri perché attraverso di voi il cittadino viene informato su che cosa fa e come si comporta chi amministra la cosa pubblica, ma se l'arbitro viene scelto dal giocatore c'è il concreto rischio, come spesso avviene, che il giocatore si sceglie l'arbitro che gli pare piace. Il risultato è, come avete visto in questi giorni, che la televisione pubblica, la televisione di Stato, di cui tutti i cittadini pagano il canone, viene invasa dalle solite facce in barba al conflitto di interesse. Si fa credere per esempio ai cittadini che il governo Monti è un governo di tecnici, ma quale tecnici? L'avete visto che è un governo vetero-democristiano che invece si è presentato da tecnico, ma che invece di fare il tecnico, l'arbitro, sta facendo il politico più politico dei politici. Iniziamo proprio a parlare della lista Monti, che cosa ne pensa dell'ingresso, meglio, del fatto dell'ascesa di Monti durante queste elezioni? Ma lui ci è entrato dal primo giorno. Lui, come si dice dalle mie parti, prega di giorno e ti frega di notte. Cosa vuol dire? Vuol dire che è passato per essere un governo tecnico che doveva mettere a posto le cose del paese e per questa ragione è stato appoggiato sia da destra che dalla sinistra. Aveva, voi pensate, una maggioranza bulgare in Parlamento. C'eravamo soltanto noi, una ventina di deputati dell'Italia dei Valori e quelli della Lega nell'ultimo quarto di legislatura, perché prima stavano in maggioranza pure loro. Eppure, con una maggioranza così bulgara, hanno fatto provvedimenti che oggi sia il centro-sinistra sia il centro-destra dicono che sono provvedimenti sbagliati e che devono cambiare, che l'hanno votato a fare. Ma lo stesso Monti ha detto che quel che ha fatto deve cambiarlo e che l'ha dovuto fare perché altrimenti i partiti non erano d'accordo. Ma allora perché l'hai fatto? Se tu dici che è sbagliato, se quelli che ti appoggiavano non erano sbagliati. La verità è molto semplice. Frega i morti e frega i vini. La verità è molto semplice. Vale a dire che tu sei un rappresentante di poteri forti, di un sistema bancario, di un sistema finanziario, che alle spalle del paese ha fatto quadrare i conti, facendolo pagare ai più deboli e ai più onesti. Io non ho nulla contro la persona di Monti, ci mancherebbe altro. C'è una bella differenza tra vedere un uomo in Loden e quello del Bunga Bunga nell'immaginario collettivo internazionale. E però io ce l'ho contro la sua politica, che è una politica settaria, selettiva, una politica a favore soltanto di lobby finanziari e a danno delle fasce sociali più deboli. E per quanto riguarda invece Berlusconi, lei ha detto che se torna al governo tornerà a fare leggi ad personam, che mai come ora gli servono per sistemare i suoi affari giudiziari, imprenditoriali e di conflitto di interesse. L'ha detto pure lui in realtà. Ha detto che lui ancora, diciamo così, nei giorni passati, tutte le volte che lo intervisto qualcuno e dice che la colpa dell'Italia è delle magistrature che indaga su di lui. La colpa dell'Italia è della magistratura che indaga su Dell'Utri, che indaga su Cosentino e così via. Io credo che la colpa delle cose che non vanno nel nostro paese di quelli che approfittano del ruolo che hanno per farsi gli affari propri, tipo quella che è il massimo degli affari propri, di andare nelle istituzioni, addirittura in Parlamento e farsi la legge a uso e consumo proprio. Credo che sia una delle cose più squalidi che esiste. Una cosa che io contesto non solo a lui, ma a tutto il sistema politico è quello di non aver voluto risolvere il cosiddetto conflitto di interessi, sicché noi non sappiamo mai quando si prende una decisione se è preso il nome per conto dei cittadini o di chi all'interno delle istituzioni ha un interesse a che quella decisione venga presa. Onorevole, parlando invece dell'alleanza Lega-PDL? Questa è un'alleanza che c'è sempre stata. Io mi rimetto ai cittadini a valutare se ne vale la pena riprovare a rimettere le cose e le istituzioni in mani a Berlusconi. Che cosa è successo? È successo che la credibilità nazionale è andata a picco, è successo che vi è stata una grande divaricazione sociale, soprattutto a danno delle fasce più deboli, è successo che l'aumento della disoccupazione, l'aumento del debito pubblico, è lì evidente, e come tale, ripeto, io credo che oggi più che mai la soluzione non possa essere che una rivoluzione. La rivoluzione è una parola molto grave, molto forte, proprio per questo noi l'abbiamo scelto, con senso di responsabilità, in una lista unitaria che voi troverete sulla scheda elettorale che si chiama appunto rivoluzione civile, cioè la rivoluzione che ogni cittadino intende fare andando ad esercitare il diritto di voto, ma non limitandosi a fare soltanto protesta, perché se fa solo protesta il giorno dopo non serve a niente quel voto, ma facendo una proposta alternativa di governo. E allora se mi presentavo da solo come Italia dei Valori non ce la poteva fare. Ho messo insieme, con senso di responsabilità e anche di umiltà, le forze dell'Italia dei Valori insieme alle forze di altri partiti, ma soprattutto di movimenti, associazioni, società civile, cittadini, che con la loro esperienza e con i loro esempi di vita possono essere un punto di riferimento soprattutto per i giovani. Ovviamente parliamo anche del Partito Democratico, come la vede? Io ci tengo a chiarirlo, io ritengo che la politica è l'essenza della democrazia, ci deve stare la politica, chi vuole liberarsi di tutta la politica alla fine fa un favore all'antipolitica nel senso che ci sarebbe un'anarchia o la supremazia di alcune persone, dei poteri forti c'è, vale a dire il regime. La politica è quella soprattutto che permette ai cittadini di poter scegliere e questo me lo lasci dire, ma noi dell'Italia dei Valori e ora che facciamo con la lista una rivoluzione civile, lo abbiamo fatto in questi anni soprattutto attraverso il referendum. Vorrei ricordarla, chi dimentica e chi dice cos'è l'Italia dei Valori, cosa ha fatto Di Pietro. Vorrei ricordare che se non abbiamo le centrali nucleari è perché abbiamo fatto il referendum e i cittadini italiani ci hanno dato ragione, se oggi l'acqua è rimasta pubblica e quindi la possono bere sia che c'è i soldi che non c'è i soldi è perché l'Italia dei Valori ha fatto il referendum. Noi abbiamo raccolto 1.200.000 firme per cambiare la legge elettorale, per mettere in modo in condizione i cittadini di poter scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa e ciò nonostante il Parlamento non ha mai pensato all'ordine del giorno quel referendum. Siamo quella forza politica che nei giorni scorsi insieme ad altri referendari abbiamo depositato quasi un milione di firme per abrogare l'articolo 8 e l'articolo 18, quella che dice che anche chi è illegittimamente licenziato può essere licenziato illegittimamente. Insomma cosa voglio dire con tutto questo? Voglio dire che c'è bisogno di politica, ma c'è bisogno di politica come servizio ed è questa la ragione per cui c'è bisogno di un ricambio generazionale. Lei pensi che Monti si fa chiamare lista civica e poi canti da Buttiglioni, Casino e compagnia bello, io credo che sia uno che appunto fa il gioco delle tre carte pure lui. Onorevole Di Fietto, cosa diciamo ai tanti telespettatori, tante persone che hanno deciso, lo sentiamo anche noi spesso in diretta, dichiarano che non andranno a votare. Che cosa li deve spingere ad andare al seggio ed esprimere una propria preferenza? Io credo che indipendentemente dalle scelte ognuno sceglie secondo coscienza, secondo volontà. noi proponiamo questa rivoluzione civile mettendo candidati, giovani, donne che non hanno fatto politica e che si propongono come nuova classe dirigente, ma chiunque essi votano è meglio andare a votare che non andare a votare, perché non è che se non vai a votare le cose cambiano, se non vai a votare vanno a votare quelle persone che sono o costrette o indotte o comprate da quel sistema della politica in cui c'è il solito caporale del territorio che acquisisce voti di preferenza che non sono più voto spontanei, ma semmai spintanei, obbligati o ricattati e il giorno dopo l'elezione il non andare a votare finisce per fare il gioco di quelli per cui ti sei stufato di andare a votare. Quindi è meglio andare a votare e protestare col voto e far sapere la propria ragione. Ecco perché noi abbiamo voluto fare una rivoluzione civile in cui addirittura anche il simbolo Italia dei Valori, voi lo abbiamo messo dietro posticipato a un unico simbolo che non racchiude più i partiti, che si presenta all'elettorato, l'ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, cos'è che ci distingue? Noi rispettiamo quel Movimento e loro rispettano noi. Cos'è che ci distingue? Ci distingue l'obiettivo, loro vanno a protestare, noi andiamo a costruire un'alternativa perché la vera protesta dura il giorno dell'elezione, ma il giorno dopo stai come prima. Un'ultima domanda che riguarda il tema delle tasse e anche il tema dell'Imu, come la vedete voi dell'Italia dei Valori? L'Italia dei Valori ha un punto preciso sul punto per quanto riguarda il programma. L'Italia dei Valori è rivoluzione civile, io ci tengo a ripetere perché poi quando gli elettori vanno a votare troveranno non il simbolo dell'Italia dei Valori, ma un simbolo che racchiude tutta questa realtà, la realtà che si propone come alternativa. E tra le prime cose che dobbiamo fare, ma noi lo abbiamo già votato contro, perché adesso noi diciamo che non vogliamo l'Imu, ma adesso lo dice pure Monti che vuole cambiare l'Imu, lo dice pure Bersani che vuole cambiare l'Imu, lo dice pure Berlusconi che vuole cambiare l'Imu, ma chi l'ha votato quest'Imu? A quando era in Parlamento solo io ho votato contro, tutti gli altri hanno votato a favore, quindi questa è una presa in giro. Per quanto ci riguarda noi crediamo che debbano essere tassati i grandi patrimoni e le speculazioni e invece che a cominciare dalla prima casa l'Imu non debba esistere. Io ringrazio e saluto l'onorevole Antonio Di Pietro, Presidente dell'Italia dei Valori, per aver accettato l'invito qua con noi a Buonasera Italia. Grazie mille onorevole Di Pietro. Grazie a tutti gli ascoltatori. Io come sempre saluto i nostri telespettatori, una buona serata. Grazie.